Per me la cosa importante adesso è che il PD segue bene il suo percorso di riscatto, che parli fuori al Paese, che ascolti i cittadini, che organizzi l'alternativa La Lega 5 Stelle alla destra. Abbiamo tutte le condizioni per farlo, bisogna farlo bene e credo che la segnalità di oggi ci aiuti. E lì sarà la nostra groteria? Sì, sì.